Un saluto a tutti i lettori di SmartphoneLab.it Sto girando questo video da Huawei P30 Lite Alla risoluzione del 1080p Perché solo questa è la risoluzione massima supportata da questo smartphone Kirin 710 Insomma l'ennesimo smartphone Fotocopia Di casa Huawei Honor Ovviamente per tutte le conclusioni troverete tutto su SmartphoneLab.it Ma sarà una recensione un po' polemica diciamo così Per il semplice fatto che Questo P30 Lite Non è quello che mi aspettavo O meglio non è quello che di fatto ha decretato il successo di Huawei Ovvero quello di proporre dispositivi ad un buon rapporto qualità prezzo Con un hardware comunque di fascia leggermente superiore Mi muovo un altro po' vi faccio vedere questa stabilizzazione Facciamo uno zoom che ovviamente non è chissà cos'è Mi giro un altro po' Posso anche cambiare alla camera 2x E ritornare alla camera 1x Insomma video girato da Huawei P30 Lite Per tutte le conclusioni trovate tutto su SmartphoneLab.it Un saluto Ciao ciao